Cos'è quello? Un libro? Sì Anche mio nonno ne aveva un paio Poi abbiamo riciclato la carta A che servono i libri ora che ci sono gli e-book? Un libro come questo non lo trovi tra gli e-book Cos'ha di speciale? È un libro magico E che magie fa? Ti fa addormentare mentre lo leggi? Al contrario, ti apre gli occhi e la mente Ti insegna a fare soldi, farti una posizione Conquistare le ragazze che ti piacciono Non ho bisogno di un libro per quello No, eh? Comunque, com'è che si può fare soldi? Vediamo, ecco, proviamo questa formula Lo vedi quel cestino della spazzatura? Sì Guardalo bene Oroè Adremal Adreme Orol Ma è tutto d'oro Allora funziona davvero? Certo che funziona Vuoi provare? Come si fa? Dipende da quello che vuoi fare Prima di tutto mi piacerebbe sapere come usare quel libro Ho capito Allora leggi questa formula Non capisco le parole Non importa una formula magica Basta che la leggi come scritta E saprai tutto quello che so io Ehi, adesso mi sembra di capire È tutto al contrario Vedi? Hai già imparato qualcosa Avevi ragione Questo libro è una figata Ora mi sembra di sapere Molte più cose di prima Te l'avevo detto Tienilo pure Ma perché mi sento così stanco? Vieni Siediti qui Ma tu non eri un vecchio La magia non crea nulla Trasferisce le proprietà di una cosa a un'altra Tu hai preso tutto quello che sapevo io E io tutto quello che tu non sapevi Ma la saggezza viene con l'età Quindi tu ti sei preso anche i miei anni E io insieme alla tua ignoranza Mi sono preso la tua gioventù Vuoi dire che adesso il vecchio sono io? Ma io voglio indietro la mia vera età Mi dispiace ma il processo è reversibile Meglio che te ne stai lì seduto E pensi a tutto quello che sai adesso A che serve sapere tutto Se non posso fare più niente? Non chiederlo a me Io non so più niente E non vedo l'ora di imparare tutto di nuovo E io che faccio adesso? Leggi In quel libro c'è la risposta a ogni domanda Aspetta Aspetta tu Con tutto quello che ho da fare Io non ho un minuto da perdere